Vi avevo promesso che ci sarebbero state tante novità e ce n'è una che è appena partita ve la spoilerò in questo video Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale Faerie ASMR Grazie per aver scelto questo video rilassante Oggi è il 25 di dicembre ma molto probabilmente voi vedrete questo video domani Spero di riuscire a portarvi un po' di compagnia oltre che rilassamento Vi consiglio di indossare le cuffie oppure gli auricolari e di distendervi Lasciate un pollicino in su se l'idea del video vi piace E naturalmente se ancora non siete iscritti al canale fatelo cliccando sul tasto iscriviti e naturalmente sulla campanella Per non perdere i prossimi video rilassanti Vi ricordo che giù in descrizione vi lascio anche il link al mio nuovo canale Dal nuovo anno ci saranno altri contenuti Quindi spero che possa farvi tanto piacere E se qualcuno di voi è bravo con la grafica e ha voglia di aiutarmi a realizzare un banner Mi può scrivere in privato anche qui sotto tramite commento Iniziamo! Allora Ho qui qualche decorazione di Natale Come questo alberello di legno Bellissimo E spero che vi piaccia lo sfondo Come vedete il mio set è praticamente completato Forse manca qualcos'altro lì Ma devo ringraziare per questo tutte le persone che mi hanno fatto un regalo dalla lista Amazon Quindi Piero Marco Marco Dani Davide Insomma se mi seguite su Instagram avrete visto i miei ringraziamenti in diretta Dunque questo Natale è stato veramente molto strano Ho trascorso la migilia da sola Anzi In realtà a un certo punto in vostra compagnia Perché ho come al solito fatto una live su Bigo E' una cosa che ormai faccio praticamente tutti i giorni E ho parlato con tanti di voi Anche raccontando alcune cose molto personali E poi oggi sono riuscita a stare un po' con la mia famiglia Che non vedevo da un bel po' Quindi sono piuttosto contenta della giornata passata E specialmente delle risate che ci sono state Adesso prendo un progettino e nel frattempo continuo a raccontarvi alcune cose Ma questo è uno dei miei preferiti Fa un suono fantastico Comunque oltre a questi fantastici regalini che servono un po' per abbellire il mio scent Ho ricevuto altre cose un po' più grandi Per esempio una pianta che dopo le feste natalizie Sostituirà l'albero di Natale Vi dico non c'era il bigliettino Quindi non ho capito bene chi devo ringraziare per questo regalo Poi sempre da parte di Dani che è molto molto gentile con me Ho ricevuto una parte di attrezzatura dopo le luci super professionali Anche una struttura per mettere degli sfondi Che mi sarà utilissimo Marco Lazze inoltre mi ha regalato il Tascam Che non vedo l'ora di provare Poi Federico mi ha regalato anche un'altra cosa Una nuvoletta specchio Molto carina Per potermi guardare quando faccio video dall'altra postazione E infine mostro un'altra cosa Dovrei fare l'unboxing proprio di questo Perché mi è arrivata da poco Questa mi è arrivata con una collaborazione Si tratta di una action camera Che pare possa registrare anche in 4K Vi lascio nell'info box il link del venditore Amazon E come vedete qui dietro ci sono delle specifiche Che insomma guarderò con molto interesse Provo a spacchettarla con voi Qui d'altra parte è l'ultimo regalino che mi è rimasto da spacchettare Ne riceverò qualcuno forse il 30 gennaio Ma non lo so C'è il bigliettino Ho scritto hello Scusate ma io sono fissata con i suoni dei cartellini Mi strastro troppi Ed ecco la valigetta Ha una piccola precisazione Qualcuno di voi mi ha scritto in uno degli scorsi video che l'audio era invertito Io lo sentivo bene Quindi adesso proverò a invertirlo nuovamente Rispetto a come lo sento io Perché non so per quale motivo si verifichi ogni tanto questo problema Questa action cam mi sarà sicuramente utile Ah bella Per il mio secondo canale Ok Vi ripeto che vi lascio nell'info box tutti i riferimenti del caso Comunque Vedete la camera è lì Ci sono tutti questi accessori Se ci riesco Vorrei anche inserire Qualche ripresa Però non ve lo garantisco ragazzi perché Devo chiedere un aiuto forse Qui c'è Qui c'è Ok Il telecomando Per controllare la distanza Oh Se c'è non delle luci Ok Poi vediamo che altro c'è Ah sì Vabbè questi sono vari adattatori Che servono per Metterla Penso su dei Pottri piedi O fissarla da qualche parte Stessa cosa anche questa Mi piace molto il fatto che abbia questa Sua valigetta Ecco altri adattatori È molto molto Professional secondo me E quindi anche questo Lo considero un po' come un upgrade Per il canale Anche se non sono sicura Che potrò utilizzarlo Per fare delle riprese Su questo Magari ci proverò Che dite? Comunque se qualcuno di voi Sta cercando una action cam Direi che valga la pena Di dare un'occhiata Ok adesso proviamo a richiudere Infine Prendo questa candelina di Natale che è praticamente finita Si chiama Christmas Magic L'ho usata tanto È un profumo meraviglioso Non so se la troviate ancora È delle Yankee Candle E nel caso Provate ad annusarla assolutamente È una fragranza speciale Guardate E Vi avevo promesso Che ci sarebbero state tante novità E Ce n'è una che è appena partita Appena Preso vita Io Io Ve lo spoilerò in questo video Ma Farò un altro video dedicato Proprio A questo argomento Allora Sapete che ho preso La qualifica di Mindfulness Educator E che quindi Ho intrapreso La strada del coaching Attraverso queste tecniche Che sono specifiche Della mindfulness Beh Insieme a Priscilla Che Ha fatto il mio Stesso Identico percorso Formativo Priscilla del canale Priscilla ASMR Naturalmente Abbiamo Ideato Un progetto Fantastico Si tratta di un Programma Chiamato ASMR Coaching In cui In pratica Uniamo Come si vincerà dal nome Le tecniche Della mindfulness A quelle Della SMR E Vorremmo Creare Una community E guidarla In un percorso Formativo Di Autoconsapevolezza Di cambiamento Per migliorare La propria vita Per migliorare Le proprie Relazioni affettive La propria Capacità Di ascolto Le proprie Prestazioni Lavorative La propria Capacità Di Attenzione E Di concentrazione Quindi Tutto questo È ASMR Coaching Vi lascio Giù nell'infobox Link Al gruppo Telegram Al quale potete iscrivervi gratuitamente L'intero L'intero Progetto Partirà effettivamente Tra qualche giorno Ma Il gruppo è già attivo E potete già Sottoscrivere Un abbonamento Se vorrete Al servizio di ASMR Coaching Premium Le quale vi verranno svelate Alcune delle tecniche principali Che utilizza la mindfulness Per raggiungere questi obiettivi Date un'occhiata Soprattutto Al gruppo Telegram Vi lascio anche il link Al Patreon Ma Ripeto Queste informazioni Ve le darò Nuovamente In maniera più approfondita In un video dedicato Anche perché Penso Che Molti di voi Si saranno Magari già addormentati E Un po' lo spero Ma insomma Che ne pensate Del mio sfondo Sono Sicura Che manchi Qualcosina Lì Vero? Forse metterei Un'altra stella Non lo so Oppure Un'altra mavoletta Che ne pensate? Ho seguito il vostro consiglio Di avvicinare un po' l'inquadratura Forse Posso farlo ancora un altro po' Vediamo Ah ah Ecco Ultimissima cosa E poi Vi auguro la buonanotte Voglio registrare Prima della fine dell'anno Un altro video In cui faccio un bilancio Di quello che Che è stato Questo 2020 Per me Sarà un video Molto personale Quindi Mi aprirò tanto Con voi E spero che La cosa possa Farvi piacere Io amo I video Chiacchiere E Quando sono in whispering Sono i miei preferiti Quindi Adesso Adesso Non mi resta che Salutarvi Ricordo Se il video vi è piaciuto Adesso Adesso Mi piace nella descrizione Bacini fattosi Ciao 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 Ciao